Ribentornati a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Parleremo del sesto episodio di King Kong Che cosa andremo a fare qui? C'è di nuovo Jack vero? Ma il più bello sarebbe se ci fosse di nuovo Kong Sarebbe molto fantastico vero? Beh comunque giochiamo lo stesso la partita Ok? Rieccoci qui ragazzi Tornati Nel sesto episodio di King Kong Sono in drappola Mi auguro che non ci siano Oh oh no Oh no metto a niente o pare un labirinto o pare un labirinto sono finiti ragazzo di stupido cosa sto facendo? devo tornare indietro no 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 Grazie. Grazie. E ora devo tornare indietro. Meno male qua. Amen. Grazie. Forza. 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 Grazie. Dai, strappagli la mascella così, Kong. Dove eravamo rimasti? Ah, sì, spaccagli la mascella. Bravo, Kong. Ce n'è un altro. Ho visto. E' qua, raga. No, ma ce n'era un altro. Vi giuro che l'ho visto. Aspettate, ragazzi. Aspettate. 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 Uno scarafaggio era raga Si era messo nello schermo Ancora 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 Ancora